Nuovi controlli ieri mattina a carico di soggetti privati cittadini e titolari di attività commerciali sui conferimenti errati dei rifiuti ad operare in maniera congiunta Polizia Municipale Sarim, quest'ultimo gestore del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. I controlli si sono concentrati su piazza della Mercanzia, via Pisacane, via Crispi, via Salvo d'Acquisto, elevate in totale cinque sanzioni di cui quattro ad attività commerciali e una a carico di un privato cittadino. Come di consueto i controlli sono consistiti nell'esplorazione del contenuto delle buste non conferite correttamente. Nelle stese sono stati rinvenuti riscontri oggettivi che hanno portato a smascherare i responsabili. I trasgressori saranno sanzionati con multe pari a 150 euro cada uno come da regolamento di Polizia Urbana. I controlli proseguiranno a campione anche nei prossimi giorni, fanno sapere da Palazzo di Città. Dunque si raccomanda a tutti la massima collaborazione di seguire fedelmente il calendario di conferimento per la raccolta differenziata.